Da venerdì 16 a domenica 18 novembre il santuario di San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo ospiterà Together Fuoco Comune, il primo festival di cultura cattolica nato dalla collaborazione dell'associazione Ingannevole come l'Amore con i frati minori Cappuccini. Un ricco programma che permetterà a ciascun partecipante di vivere momenti di formazione, di spiritualità, di convivialità e di creatività con l'obiettivo di ritrovare il proprio ritmo e scoprirsi parte fondamentale di un tutto ordinato e desiderato. Il sabato mattina sarà dedicato ad una staffetta di conferenze organizzate per aree tematiche e trattate da 16 prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia. Inoltre nel pomeriggio Together offrirà la possibilità di mettersi in gioco in prima persona sperimentando il ritmo attraverso laboratori esperienziali e creativi tra musica, colori, emozioni, danza e meditazione. In serata un momento di adorazione eucaristica animato dalla corale pugliese del rinnovamento nello spirito concluderà la seconda giornata. La domenica invece sarà incentrata sul ritmo della spiritualità e si aprirà con una testimonianza sulla vita di San Pio da Pietrelcina e sarà seguita da una conferenza biblica dal taglio esistenziale e formativo. La mattinata offrirà spazi di riflessione e preghiera per poi concludersi con la celebrazione della Santa Messa.